Sono 11.815 nuovi casi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 105.508 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati nei laboratori della Campania. Lo ha comunicato l'Unità di crisi della protezione civile regionale nel consueto bollettino pomeridiano. Il tasso di positività è dell'11,19%. Preoccupa l'impennata di ricoveri, 72 in più rispetto al bollettino precedente con 76 pazienti in terapia intensiva e 1031 nei reparti di degenza ordinaria. Questi ultimi tornano sopra quota 1000, come non accadeva da quasi un anno. Sul fronte ai vaccini prosegue spedita anche nell'agronocerino sarnese la Campania per le inoculazioni, esclusivamente con prenotazione presso IAB dell'Asl Salerno. Alto il numero di immunizzati a Roccapiemonte, dove il 93% dei cittadini è stato vaccinato con prima dose, l'82% con seconda ed il 41% con terza dose. Pagani raggiunge l'82% di popolazione vaccinata con prima dose, 68% con seconda, 27% con terza dose. L'88% dei cittadini di Sarno vaccinati con prima dose, il 76% con la seconda inoculazione, terza dose per il 33% della popolazione. Non c'era superiore registro all'86% di cittadini vaccinati con prima dose, il 74% con seconda ed il 33% con terza dose.